Nuovamente ristretta la protezione speciale, le cui maglie erano state, voi sapete che la protezione speciale è una protezione aggiuntiva rispetto alle norme internazionali già previste dalla Convenzione di Ginevra e dalla protezione sussidiaria dell'Unione Europea, l'Italia aggiunge la protezione speciale, serviva per casi specifici, la fattispecie si è allargata a dismisura, noi torniamo a restringerla ma vi annuncio che l'obiettivo del governo... www.djnews.com.br . per il nostro corso di QTSS Ascenio Unico che presto per l'attenzione inizia . A presto di questi giorni stagione moltissima informazioni. Giorgia Meloni 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 Giorgia Meloni